Uscite forza! Andate pure con i vostri zaini. Ciao. Mi ha risultato la mano? A chi? Non ho visto. Fariba ha dato la mano a Valentina che l'ha ritirata. Valentina, hai ritirato la mano? Non voglio più avere niente a che fare, già l'ho detto. A me, ma una mano, dai! Ma una mano, Valentina! No, no, la mano non si dà. Una mano! Oltretutto, Elettra, non c'è risulta. Mi ha calunato più di una volta. La mano io non lo do a chi mi calugna. Quando so di avere ragione. Io non faccio l'iprochita. Ciao, tesoro! Sorrisini, cuoricini, ti voglio bene l'universo. Io non riesco a farlo. Già ve l'ho detto una volta. Te ne pentirai quando sarai fuori. Io non ho dato la mano, eh. Chi? Te ne pentirai quando sarai fuori. Anche tu, G? Me ne pentirò quando sarò fuori. Anch'io non ho dato la mano. Nel senso che lì sicuramente hai fame. Non l'ho data perché me l'ha data. Nel senso che sicuramente lì hai fame e quando uscirai col senno di poi penserai che... Assolutamente no, no, no. No, no, stavo parlando con Valentina. Assolutamente no. Aspetta, ci si sta parlando con lei. Stavo parlando con Valentina. Ah, ok, scusa. Mi dimmi, elettra. Dicevo che sicuramente lì con la rabbia, la fame e tutto uno fa quello che meglio crede. Però secondo me quando poi uscirai che avrai mangiato, che sarai più serena magari penserai che avresti potuto dargli la mano senza problemi. Grazie. 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 Grazie.